Gli altri stanno arrivando Però penso che intanto qua una creep sia d'obbligo Guardate che posso Qua c'è Gizza, ciao Gizza E ci stiamo arrampicando Fa un freddo boia Però siamo i primi a camminare su questi sentieri Da quando ha nevicato E ragazzi, cavolo se merita Grazie a tutti Spero di essere a fuoco C'ho il sole impiazzato in faccia Non ci vedo nulla Però l'alternativa è farvelo contro luce E farebbe schifo comunque Allora, questa qua doveva essere Un'esplorazione urbex di un paesino Sperso qua in mezzo alle montagne Il problema è che il sentiero Era già impraticabile Cioè, se dicevano comunque che raggiungerlo era molto difficile Non specificavano però il sentiero Noi comunque abbiamo detto Vabbè, più o meno sappiamo la location Ci proviamo Il problema è che abbiamo incontrato un sacco di neve Come avete potuto vedere E quindi L'abbiamo ridotto in un giretto In mezzo ai boschi nevati Che comunque Non so se avete chiesto che scenario abbiamo filmato Però tanta roba Ok Detto questo Possiamo mandare la sigla Che ancora non abbiamo mandato Mi sono dimenticato di irvelo Siamo arrivati al Lago Buono A 1140 metri dall'altezza del mare Ok Siamo qua con la KUJI Ciao ragazzi Io sto senza mascherina Perché siamo a 1100 metri E con la mascherina non respiro Io asmatico sto morendo Con la mascherina Quindi stiamo senza Tanto C'è non soltanto con mia kugina Non c'è nessun altro Quindi C'è la distanza anche di un metro Quindi Polleg Abbiamo mangiato Mi sono fatto un buonissimo poke Che Mi metterò la foto su Instagram Probabilmente da qualche parte È wow Io classico Panazzo Con prosciutto Esatto Quello funziona sempre bene C'è anche Moreno Che sta arrivando con Con molta calma E qua c'è la Gizza Con il suo bellissimo giubbino rosa Ah no Perché prende freddo al pancino Allora Eravamo praticamente Lì al Lago Mentre mangiavamo E ci siamo accorti Che c'è questa Cappannina Che poi sembra più Un tripiede per focolario Perché su ci sono Dei sassi È fatto col fil di ferro Quindi insieme a quello Da metterci il tegamento A scaldare E abbiamo deciso Di provare a fare Una sessione F EPV EPV Sì FVE FVE Fpv Insomma Qualcosa Proviamo a comunicare Una sessione qualcosa Vedersi ci risponde qualcuno Così è random Giusto perché Visto che non usciamo a fare L'esplorazione urbex Aggiungiamo altre cose Che ci piace fare insieme Oggi sperimentiamo La spirit box O Ghost box Che praticamente Cosa fa È un'applicazione Esiste anche lo strumento Verre e proprio Ma più o meno Sono uguali Prima di lui scansiona Tutte le frequenze radio Che trova E tra queste Capta quelle vocali Si dice Che i fantasmi Siano in grado Di captare Queste frequenze vocali Insomma E modularle Per esprimersi Per parlare Insomma Giusto? Sì esatto La nostra speranza È oltre a trovare Magari Non sappiamo Se ci sia Qualche entità Che un tempo È stata umana Ma visto che siamo Nel bel mezzo Della natura È un luogo Poco frequentato E quant'altro Magari riusciamo A entrare in contatto Anche con qualche cos'altro Che non è mai stato umano Ecco Esatto Soprattutto qua ragazzi Siamo tranquilli Che non abbiamo interferenze radio O altre robe strane Cioè È in mezzo al nulla Veramente Intanto ha detto Io Io Ciao Piacere Ciao Sei qui con noi Qualcuno vuole parlare con noi Sì Ha detto sì Chiaramente Reagisce molto velocemente Sì Possiamo chiederti Chi sei? Sei un Un essere umano Un essere umano Non ha detto essere umano Per favore Hai detto Sei un essere umano Lui fa Io ho sentito chiaramente Essere Sì È la seconda parola Però non so sicur se è umano O qualcos'altro Eventualmente dopo Nell'editing del video Metteremo Cioè Riascolteremo Riascolteremo E proviamo a scrivervelo sotto Quello che potrebbe essere Ok Sei da solo Sei una sola O siete in più Ha detto sì Sì Quindi siete in tanti Abitate qua? Sì Sì Un nome Con cui possiamo chiamarvi O Potete provare a ripetercelo Non abbiamo capito Cioè Mi si ri Iris 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 Sei una strega? Certo Può essere? Non ho sentito io Adesso ho detto certo Per caso tu Abitavi nel paese vicino Che c'è qui Lavacchielli E però Sì Abitavi Nei dintorni Io ho sentito fine Fine Vuoi che Parliamo d'altro Oppure vuoi che andiamo? Ci vuoi salutare? Sì Va bene Va bene Iris Ti ringraziamo tantissimo Sì Grazie Per aver comunicato con noi Per averci raccontato Un po' di cose E Grazie anche perché Non ero Ha detto un altro prego Prego sì E Anche perché Ripeto Non era una cosa organizzata Quindi veramente grazie E grazie per averci fatto trovare Questa struttura Che ci ha fatto comunicare con te Ok Ora Dopo la sessione Fantasmosa Voleto col drone Che seppure è fermato il vento E forse riusciamo a tirare fuori Qualche bella clip Finalmente Ok Allora Il video col drone Come non detto Perché fa freddo E ha iniziato a darmi Tutta una serie di errori Facendo una calibrazione Un po' macchinosa Così strana Sono riuscito a farlo partire Ma Tempo 3 secondi Che è decollato Ha iniziato ad andare di matto Completamente di matto Ma roba che tipo Cioè Il gimbo che faceva Sbacchettava Come poche cose al mondo E Il drone Saliva e scendeva Per i fatti suoi Quindi E l'abbiamo andata su Abbiamo quindi deciso Visto che comunque ci vogliono Circa due ore Per arrivare qua Di iniziare a scendere E quindi Mi sono detto C'è l'action cam Piazzamocela in fronte Così che facciamo Delle riprese un pochino diverse No Perché fa freddo E anche l'action cam L'ho accesa Tra secondi Si è spenta da sola Loro si sono subiti Le mie strippate No ma è tutto tranquillo Tutto è a norma Eh Non ti preoccupare Giù ci saranno due Che ti faranno provare Una bellissima schizia bianca Le maniche sono un po' lunghe Mi fanno finire Però se non farci caso È assolutamente tranquillo Sì sì Quindi alla fine Visto che sta venendo freddo Sta scendendo il sole È inutile continuare a stare qua A morire assiderati E abbiamo deciso di iniziare a scendere Farò qualche ripresa Con questa cam qua Che è l'unica Che per adesso Sto ancora vivendo Se si spegne anche questa Il video finisce lì Cioè nel senso Che non farò una conclusione Né nulla E voi vi immaginerete Quello che Pixel ha detto dopo Se vedete L'ho preso un po' a mostra Perché sto scivolando brutalmente Oppure ad ammazzarmi Allure Stiamo continuando a scendere Sto facendo queste clip Un po' così random Perché tanto anche questa batteria Di questa telecamera Si sta scaricando Quindi viva la vita E' un arco di alberi Mostriamo gli archi di alberi Questa imprecisa E' il suo cappottino E' il bastone di Saruman Il bastone di Saruman Che mi ha salvato Dallo spettasciarmi Selvaggiamente in terra Mentre scendiamo Abbiamo deciso di raccontarvi Le nostre avventure Che non ho filmato Perché sennò avrei dovuto Biffare un sacco di cose Probabilmente Quindi Non è vero Sono una persona estremamente educata Sì ti sei molto trattenuto stavolta Io però non voglio andare Nel fosso che ci siamo già rimasti Allora Cosa è successo? Prima che iniziassimo ad arampicarci Quassù Io mi sono appena grappato In un altro ralbero Un momento Bello il cavalletto Aiuto Grazie Libero Per dirvi Quanto è facile fare youtube Nella vita Non credete a chi vi dice Che youtube è facile Praticamente Arriviamo Ed era molto Molto improvvisato Perché Dovevamo cercare Proprio questo villaggino Abbiamo detto Vabbè ma sarà lì vicino Cosa vuoi che sia Cerchiamo di parcheggiare la macchina Più vicino possibile Anche perché Non c'erano altri parcheggi Mi stavo ammazzando di nuovo Allora Gira che ti rigira Praticamente Troviamo questo bellissimo spiazzale Spiazzale No piazzale Con una bellissima madonnina Questa cosa è importante Che ci sarà madonnina E c'era Cioè non c'era neanche troppa neve In quel piazzale lì mi pare Cioè c'era abbastanza verde No però pensava che Gli spalaneve l'avessero C'era solo una striscia Ammucchiata sul lato Esatto C'era soltanto questa striscia Che divideva il piazzale Dalla strada Quindi cosa facciamo Entriamo Mettiamo le due ruote Sulla striscia bianca E pam La macchina si infossa C'era un bellissimo fosso Che Non segnalato Perché non ho manco visto Le segnalazioni lì di fianco C'è un cartello Non faceva schifo nella vita E praticamente Quindi la macchina Si era inchiodata lì dentro E quindi noi presi Dal grande spirito di Bear Grylls Abbiamo iniziato a sradicare sassi Dalla montagna E li abbiamo piazzati Sotto la ruota Che sviltava Anche perché Di quattro ruote Ce n'era una Sparata per aria E tre che toccavano La macchina Soltanto a trazione davanti E quindi Ciao E quindi nulla Quindi ci siamo messi a piazzare I sassolini E siamo riusciti a saltarci fuori Neanche senza troppi danni Va Confermi? Sì dai La macchina è in tosco Perché proprio ci hanno scivolati Con una certa dolcezza Cioc Quindi Una macchina danni rotta Quindi la macchina è salva Dopo l'abbiamo tirata fuori La siamo andata a parcheggiare In un altro punto 10 metri più lontano Io durerei di aver visto A un certo punto La madonnina scendere Dal piedistallo E dire basta Ma rendo Così a caso Ok Qualcuno anche di più Però dai Bisogna ammettere Che sia venuta Una passeggiata bellissima Perché Sì confermo Io Non sono Di solito Non ho mai fatto Passeggiate invernali Però Penso che mi piacerebbe Cominciare a farne E su questo Sfondo C'è l'Elena Ciao Ciao C'è Moreno Ok Ok ti ho preso Noi vi salutiamo Doveva essere un video Di esplorazione urbex Così non è stato Però Penso di aver riportato Comunque dei gran contenuti Perché il posto Era veramente Veramente bello Mi dispiace per il drone E spero di non doverlo Mandare in assistenza Perché sennò Saranno dolori E detto questo Io vi ricordo Che mi trovate Su tutti i miei social Instagram Facebook Telegram E tutti I link ovviamente Questi sono in descrizione Ho aperto Anche un sito Per le donazioni Se volete donare Così per far crescere Più facilmente il canale Detto questo Io vi ringrazio ancora Ci vediamo ad un prossimo video Ciao Quella è la madonina Che vi dicevamo prima E qua è dove ci siamo impantanati Potete vedere Le sgommate della macchina Che si è incastrata Come vedete La madonnina non c'è più Perché se n'è andata La madonnina No c'è Lì sotto Ok ho visto È scesa Non è più sopra È scesa un pochino Però Ci accontentiamo La macchina adesso è là Adesso è sicuro Che c'è un pochino È scena un pochino E' così Che c'è un pochino